Interessante quello che è stato presentato come un corso che ricostruisce la presenza degli ordini religiosi nel contesto dell'allora Diocesi di Belluno. Io penso per un motivo di fondo, che è quello per cui gli ordini religiosi sono nati, sono sorti nella Chiesa. È quello di dare una testimonianza radicale al Vangelo di Gesù. Quindi certamente si sono incarnati nel luogo e hanno assunto i bisogni che ci sono anche di carattere assistenziale, caritativo, educativo, ma essenzialmente sono la testimonianza in forma proprio radicale e profonda del Vangelo di Gesù.